Una lunga carriera nel cuore delle istituzioni culturali e museali nazionali ed internazionali. Un antropologo, la competenza azzeccata per un museo, l'M9 di Mestre, che sarà inaugurato il prossimo primo dicembre, che indaga la contemporaneità attraverso le trasformazioni della società del Novecento. Marco Biscione, dopo un'esperienza europea alla segreteria generale di MIBA, che è stato direttore dei civici musei di Udine e dal 2015 ad oggi ha diretto il MAU, il Museo di Arte Orientale di Torino. Da novembre sarà a Mestre per fare da guida ad un museo innovativo in cui la multimedialità sarà espressione di arte, cultura, vita e socialità. I temi sono i grandi temi delle trasformazioni a cui è andata incontro la società, la società italiana, ma non solamente la società, ovviamente M9 è un museo che fa riferimento all'Italia, ma è la gigantesca trasformazione a cui è andata incontro l'Italia e l'Europa nel corso del Novecento, in tutti i suoi aspetti, vista anche negli aspetti della vita quotidiana, vista anche dal basso. Quindi non solo non i grandi eventi storici, ma i cambiamenti che tutti gli italiani hanno affrontato nel corso della loro vita. Un museo della contemporaneità più che dell'arte contemporanea? Un museo della contemporaneità, infatti M9 non è un museo di arte contemporanea. Certo, l'arte contemporanea potrà essere uno dei potenziali linguaggi usati dal museo, ma il museo parla della contemporaneità anche per capire il futuro, per capire il presente e capire il futuro. Ma questo è un po' il ruolo di tutti i musei. Anche i musei di arte antica devono sempre dare al visitatore degli strumenti per comprendere in qualche maniera il presente. Quali saranno gli elementi che non dovranno mancare in un museo della contemporaneità? E poi, il termine museo non è ossimorico rispetto al termine contemporaneità? No, no. E quello è il motivo, è la cosa che dicevo prima. Cioè i musei non devono parlare solo del passato, ma parlano del passato per capire anche meglio il presente, e per vivere meglio il presente. Quindi non è ossimorico il termine museo e futuro. E guardi che Rio de Janeiro hanno aperto qualche anno fa un bellissimo museo che si chiama il Museo del Domani. Un tempio della contemporaneità dove quello che si può visitare, mi passi questo termine, è anche il confronto diretto tra le persone, quindi un museo della vita. Un museo della vita, un museo del presente e del passato, un museo in cui ci si può confrontare col nostro passato recente, col passato recente dei nostri genitori e dei nostri nonni. Un museo della vita, perché poi parla della vita quotidiana anche il M9. Il rapporto tra Mestre ed M9, quale può essere? Intanto Mestre è un po' un paradigma delle trasformazioni in cui è andata incontro l'Italia, e queste trasformazioni si trovano documentate nel museo, quindi la crescita dubultuosa di Mestre, l'industrializzazione per certi aspetti selvaggia, quindi questi sono temi che hanno interessato Mestre, ma hanno interessato anche l'Italia, quindi ha molto senso la presenza di un museo del genere a Mestre. Per quanto mi riguarda perché venire a Mestre, io andrò ad abitare a Mestre e non a Venezia, perché bisogna vivere nei posti in cui si lavora, anche per capirli, ma per me la spinta fondamentale è stato finalmente in Italia un museo totalmente innovativo, un museo che ha altri esempi in Europa, cui io ho sempre guardato, è un'occasione unica per chi ne ha lavorato una vita nei musei. Grazie a tutti.